di resto del supermercato sono precisissimi, quindi devo dire che il mio full zip, quella quella schiena centrale è molto importante, gm24moditalia.it, il nostro sito tematico che parla di moda, dove trovate tutti i prodotti che rispecchiano un po' quello che è il lusso, non solo del Made in Italy ma anche della moda internazionale come Barberi, che nasce un po' proprio con il trench di Barberi, è un grande classico, è stato il primo Anche Audrey Hepburn è famosa per l'indosso del trench di B, che poi all'inizio è stato creato solo per sopperire alle intemperie inglesi, pensa, poi dopo invece è diventato il marchio per eccellenza, elegantissimo. E Barberi ormai è un brand amato in tutto il mondo, quindi qui abbiamo una qualità appunto altissima di un brand che sicuramente rispecchia quello che è il modo di essere di una donna dei giorni nostri, qui vediamo naturalmente che anche scritta importante, custodia originale, perciò arriva, se state pensando a un regalo, per esempio, quando si regala un portafoglio, mettete sempre una monetina dentro, anche piccola. Sì è vero, è come se lo acquistassero da solito la porta male, giusto? Esatto, come se l'avessero pagato in qualche maniera, e arriva anche la scatola, perciò ve lo fate arrivare a casa, magari avete già tutta la confezione, insomma, si presenta anche bene, facciamo un figurone. È vero, è vero, perché magari uno non ci pensa mai, ne parlavamo un altro giorno, magari uno tende anche a regalare magari l'abbigliamento, no, però con l'abbigliamento puoi sbagliare, non sai mai la taglia, quella è giusto, meno facile. Non c'è taglia, non c'è taglia. Allora, da 740...